Bella ragazzi, cari di oramai da Fuse Gamer, oggi ragazzi, ed anche Toritubo, signore, scusate, Toritubo, oggi ragazzi siamo qui, siamo qui per darvi un annuncio pazzesco, il giorno 28 dicembre organizzeremo un raduno a Napoli, speciale per le festività natalizie, giusto, sarà anche l'occasione per presentare la nostra nuova linea di maglie e felpe, ragazzi, questo è solo un assaggio, anche maglie e felpe, Toritubo, Toritubo, Fuse Gamer, Toritubo, Toritubo, Antonio ora non ce l'ha, ma all'evento quindi, Viagerbaker 78, a game time di Napoli, zona vomero, zona vomero, mi raccomando ragazzi, vi vogliamo in tantissimi perché è l'evento dei napoletani, ci sarà quindi un torneo con la vincita di FIFA 18 per vincere FIFA 18 più altri fantastici premi, ci sarà l'occasione appunto di comprare i nostri gadget e ragazzi non potete mancare perché dobbiamo darci il buon natale tutti insieme giusto ora vi sarete da chiedendo si tutto questo burdello è bello ma come faccio allora ragazzi dovete venire il 28 il torneo iniziale 11 però anticipatevi perché ci sarà sicuramente tanta gente lo speriamo sarà sicuramente così venite un po prima al games time via kerbaker 78 vi scrivete la quota è minima di partecipazione quindi potete scrivervi tutti sarà un torneo aperto amatoriale quindi non non parteciperanno pro player eccetera quindi non vi preoccupate premi importantissimi avremo l'occasione anche per farci foto autografi e facciante gli auguri e in più ragazzi ci sarà anche un contest dove uno di voi un fortunato vincitore verrà estratto per una amicità di un premio che è una sorpresa mi raccomando esterno extra rispetto al torneo quindi possibilità di più premi ovviamente a chi acquisterà un nostro gadget esatto questa è la cosa fondamentale quindi primo link descrizione per l'evento che c'è su facebook comunque quindi ragazzi vi vogliamo in tantissimi e fateci sapere con sotto i commenti chi verrà se ci sarete se ci sarete hashtag partecipo giusto 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 quindi ragazzi vi aspettiamo in molti e noi ci rivecchiamo nel prossimo video la vita a tutti ciao 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 ciao